Cesare Bocci e Giulio Pranno Il figlio è uno spettacolo molto complesso, uno spettacolo molto vero, ti ho rubato le parole dalla bocca, è uno spettacolo che parla di un ragazzo che ha un mal de vivre in qualche modo dovuto a una separazione di questi genitori a cui lui non riesce a trovare una vera motivazione, un vero motivo appunto. C'è questo padre che vorrebbe aiutarlo ma effettivamente non sa bene come. Sì, è proprio questa, la difficoltà dei genitori è quella di dialogare e di capire i figli. E' veramente un testo molto attuale perché riprende ancora di più il periodo che stiamo vivendo adesso, dopo la pandemia i ragazzi si sono sentiti sempre più impauriti dalla vita. E con i genitori anzi si sono chiusi sempre di più pur stando dentro la stessa casa. Come ha detto Giulio, il suo mal de vivre non riesce ad affrontarlo, non riesce neanche a comunicarlo ai genitori che sono presi dai loro problemi e l'incomunicabilità poi non aiuta a allenire i dolori. Ecco Giulio, ma leggendo questo testo ti sei ritrovato in alcuni momenti oppure hai la fortuna di avere un ottimo rapporto con i tuoi genitori? Allora no, io ho un ottimo rapporto con i miei genitori e diciamo che come sempre mi capitano dei ruoli non molto tranquilli, di personaggi non personaggi. C'è questa faccia? Ho una faccia che evidentemente porta ruoli di persone in questo caso anche depressa, problematiche. Magari un giorno potresti essere definito il Joaquin Phoenix italiano, ti pare poco? No, non mi pare poco, anzi magari succedesse. Insomma io me lo auguro. Beh ma è già un ruolo molto simile che l'hai fatto con Salvatore. Sì, è vero, ho fatto un clown triste di cui abbiamo anche già parlato abbondantemente. In Comedians. La prima stagione intera post pandemia, quali sono gli auspici dopo questi due anni, queste stagioni a Mozzi che Bocconi? Guarda, l'auspicio è quello di vedere lo stesso fermento che c'era tre anni fa. Perché io faccio sempre teatro e in questi ultimi anni avevo visto veramente i teatri riempirsi sempre di più, aumentare il numero degli abbonati. E veramente ci aveva dato una spinta a noi artisti straordinari a vedere in provincia, io faccio sempre tournée, nella provincia a vedere i teatri pieni e con la voglia di andare a teatro. La voglia c'è ancora, è rimasta forse un po' di paura. Credo che preparrà la voglia di andare a teatro perché starsene a casa tanto mi pare che non cambi molto. Prendiamo le precauzioni e si va avanti, no? Tra l'altro non so da chi l'ho sentito dire, però mi sa che quest'anno comunque i teatri sono andati in meglio delle sale cinematografiche. Quello assolutamente. Eh, che quindi diciamo da un certo punto di vista è buono e da un certo punto di vista ovviamente per il cinema invece non va bene. Quindi c'è sempre, non si può avere il tutto esaurito ovunque, insomma, cosa che ci piacerebbe a noi attori e artisti, insomma. Ecco, e a proposito di cinema invece che cosa uscirà con Giulio Pranno questa stagione? Allora, non ho ancora iniziato a girare, ho dei progetti che però, insomma, non so se posso rivelare, anticipare. Quindi, insomma, aspettiamo e vediamo. Comunque c'è della roba in cantiere. Cesare, invece, cinema, tv? Allora, cinema uscirà a Terezin, che è la storia dei bagni di Terezin, questo campo di concentramento in Riga Ceca, dove erano stati concentrati quasi tutti gli artisti europei, cantanti, attori, musicisti, scrittori, poeti, tutti lì erano passati e per la regia di Gabriele Guidi è stato fatto questo film veramente molto bello che appunto racconta la storia di questi decine di migliaia di artisti che erano stati reclusi lì e poi mandati nei campi di sterminio, tipo Auschwitz, Dachau, eccetera. Sei artista o nazista? Io sono artista e sono direttore d'orchestra, anche se la faccia avrei potuto fare, veramente, questo è. Ok, e invece lo spettacolo poi lo porterete in scena dove? Andrete in tour prima o dopo? In tutta Italia dalla prima settimana o la seconda settimana di gennaio, tu sai meglio di me le date? Lo imparate, allora iniziamo il 25 gennaio fino al 5 febbraio qui al Parioli e poi credo Firenze, Venezia e non ricordo ma insomma tutta Italia e quindi insomma ci auguriamo il meglio. Sempre nella speranza che non esca prima il film perché è stato fatto anche un film tratto da questa piesta, quindi chi arriva prima? Allora, chi arriva non ci spaventa proprio perché a parte che è un film americano e a lui sì ci può toccare o meno, ma come abbiamo detto al cinema ci si va sempre meno. Invece a teatro se vuoi uno spettacolo a video solo lì. Il film sì te lo puoi vedere pure a casa, ma non credo che ci darà fastidio, anzi ci rafforzerà ancora di più. Quindi l'invito è venite a teatro a vedere noi e dopo vedete anche il film. Se vi va. Così. Se vi va perché secondo me non ce ne sarà bisogno di vedere il film dopo aver visto il nostro spettacolo di teatro. Ora parlano di nomi come Laura Derr, ma noi... Hugh Jackman. Hugh Jack. Hugh Jack. Hugh. Hugh. Esatto. Va bene, allora grazie e in bocca al lupo per lo spettacolo e complimenti sempre a entrambi. Crepy. Grazie a te. Grazie mille, grazie. Grazie a te.